Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video, finalmente riesco a riprendere un po' in mano il canale perché sono davvero impegnatissima con un corso di formazione che sto frequentando. Il video di oggi prevede lo spacchettamento della bellissima Mighty Box di ottobre. Ovviamente non ho resistito perché l'ho ricevuta tipo una settimana fa, non ho resistito fino al video per aprirla, l'ho aperta prima. E scusate, però, curiosità è donna, si sa. Allora, come sempre la troviamo con la velina. La box di questo mese si chiama Foglie d'autunno. È una box appunto che preannuncia l'autunno. Vediamo insieme tutti i prodottini che sono contenuti all'interno della box, che sono tantissimi a vedere dall'elenco. Sono veramente curiosa. Procediamo. Il primo prodotto è questa crema illuminante giorno della Lippena. Crema sublime illuminante giorno antità globale. È una full size ed il suo prezzo è di 36 euro. È una crema appunto che dona uniformità all'incarnato e aiuta a ridurre le rughe. È una crema, una marca buonissima di cui ho provato i solari quest'estate. Mi erano piaciuti tantissimo, quindi sono davvero, davvero curiosa di provare questa crema. Poi, della Puro Bio, due bellissime cosine. Allora, un matitone. Questo qui, un matitone ombretto. Ed è un bellissimo marrone. Eccolo qua, vediamo se si vede. E poi, un ombrettino. Questo è il packaging. Si stila. E... Da-da! Questo è l'ombretto. L'ombretto... È bellissimo. È un grigio azzurro. Meraviglia. Non so se si riesce a vedere, perché purtroppo sto registrando di sera. E quindi la luce è artificiale, ahimè. Poi, sono entrambe comunque due full size. Il prezzo del matitone è di 7,90 euro. E il prezzo dell'ombretto è di 6,90 euro. Puro Bio, avevo già provato degli altri ombretti ed erano fantastici. Quindi immagino che anche questi prodotti siano più belli. Poi, della Ineov. Wow! Delle capsule integratori alimentari per capelli e unghie. Questa è una... Non è una full size, perché la full size provvede 60 capsule. Queste sono 20. Quindi, se 60 capsule costano 30, 20 costano 10 euro. Immagino. 10-20? Sì. Sarebbe questo... 20 capsule hanno il valore di 10 euro. Le voglio provare. Non penso facciano male. Anzi, saranno tutte base di... Eh, vitamina D3, associazione di omega 3, zinco. Non penso abbiano cose che possano danneggiare, anzi. Poi, della Skin & Co. Crema contorno occhi al tartufo rigenerante. Sempre della Skin & Co. Avevo provato altri prodotti della linea al tartufo ed erano ottimi. Questa è una mini size da 5 ml. La full size da 15 ml costa 60 euro. È un brand piuttosto caro, ma ha dei prodotti veramente fenomenali. Soprattutto mi piace il detergente viso, quello a spuma. Mi sembra tipo una schiuma quella dei capelli, perché sì. Poi, della Beleda. Una crema a mani rivitalizzante enotera. Enotera. Non saprei come si indica. La crema è una full size da 50 ml. Il suo prezzo è di 9,50 euro. Ed è composta con olio di enotera o enotera. Ditemi dove cade l'accento. Milio e burro di karité. Poi, ho finito la mia crema quotidiana della palestra. Quindi mi sembrava giusto trovare una crema fluida per il corpo. Questa è dell'Aliocrema. Io usavo la versione blu e mi piaceva tantissimo. Questa qua è una full size da 250 ml, 2,50 euro. È una classica crema corpo. Ha un profumo buonissimo. Con estratto di avena, allantoina, vitamina E. Contrasta la secchezza della pelle. Dora una profonda idratazione e un intenso nutrimento. Della Curacept. Un dentifricio. Un dentifricio è una full size da 75 ml. Che costa 4,90 euro. Un dentifricio che rafforza la difesa naturale dei denti e gengive. Pulendo a fondo e rispettando lo smalto. Con estratti vegetali, bio di camomilla, salvia. Echinacea angustifolia e melaleuca. Comunque, un dentifricio che sempre fa comodo. Poi del brand Bottea si potevano trovare vari prodotti. Tra cui uno shampoo per capelli danneggiati, uno shampoo per capelli secchi e uno shampoo per capelli assottigliati. Mannaggia, Whatsapp. Mettiamo silenziosa. Allora, io ho trovato lo shampoo per capelli danneggiati con olio di Buriti del Brasile. E sono curiosissima di provarlo perché, a parte il dosatore che mi piace da morire, quelli così a pompetta. E poi questo shampoo costa 16 euro ed è una falsetta 300 ml. Quindi sicuramente sarà buono, immagino. Poi io ho capelli danneggiati. Non sono proprio danneggiati, però sono capelli trattati, colorati, quindi. Poi della Nio & Co. Sì, penso Nio. Cos'è? Una Parfumed Car. Un viaggio olfattivo alla scoperta delle note seducenti, dei fiori e invitanti della frutta. Come gelsomino, rosa, mughetto, lamponi, fico, arancia e vaniglia. Ah! Da portare in borsa o lasciarle nei cassetti per profumare ogni momento. Questo qui, fruttata, florelle speziato, mustiato e legnoso. Buonissimo! Che dia carina! Infine delle caramelline. Queste qua sono Legolia Herbs Infusion. Un estratto quindi di caramelle all'erbe, benefiche balsamiche per la gola. Sono senza zucchero e il suo costo è di 1,50 euro. Niente, ci tenevo tantissimo a mostrarvi tutti i prodotti in un video perché è diverso rispetto al blog. Ma soprattutto, mi raccomando, se volete abbonarvi oppure soprattutto per Natale, regalare una box. Vi lascio tutto il necessario nell'info box. Vi mando un grosso bacione. Alla prossima! Ciao!